Sono più di 2000 le firme raccolte per riportare la storica processione nel venerdì santo di Sulmona come era un tempo. Il punto della situazione è stato fatto stamani in conferenza stampa da Luciano Angelone, Fabio Balassone, Francesco Comparetti e Carlo Maria Speranza, membri del comitato promotore della raccolta. Alle 2000 firme cartacee si aggiungono le 900 raccolte sulla rete sociale di Facebook, sulla pagina salviamo la tradizione della processione del venerdì santo a Sulmona. La raccolta annuncia il comitato, proseguirà fino alla fine del mese, dopodiché sarà consegnata ai vertici dell'Arciconfraternida della Trinità. Nella petizione si chiede di eliminare la presenza dei megafoni, ripristinare il precedente percorso attraverso Piazza Plebiscito, non fermarsi all'annunziata prima del rientro del corteo processionale, regolare l'attività dei fotografi evitando, quantomeno limitando, la loro intromissione nella processione. Riteniamo che nel corso degli ultimi anni la processione abbia subito delle modifiche che l'hanno allontanata dalla tradizione e dallo spirito identitario della città, spiega l'avvocato Angelone. Noi siamo cittadini e non siamo esperti di liturgia, ma abbiamo sollevato il problema senza polemiche con l'auspicio che dall'Arciso Dalizio venga preso in considerazione, ha sottolineato l'avvocato. Ci sono dei testi nei quali la processione viene descritta in tutto il suo svolgersi noi vorremmo che la processione ritorni a così come era una volta, cioè ritorni a rappresentare quello spirito che è identitario della città. Il registro della preghiera di questa processione in tutti questi secoli è stato canto e silenzio che raggiungono la parte profonda di ognuno di noi nella quale secondo San D'Agostino alberga a Dio, fa notare Fabio Balassone. Questo è il senso di cui questa processione, il suo registro è il canto e il silenzio, non sono le preghiere messe fuori dal megafono, quelle appartengono ad un altro registro, appartengono ad altri momenti altrettanto dignitosi dal punto di vista della religione, ma non è questo. Il tono di quella processione, il senso di quella processione è il silenzio, è il canto che parla al cuore di ognuno. Preoccupazioni sono state espresse dai coristi che quest'anno dovrebbero iniziare le prove il prossimo 9 marzo, a sole due settimane, da venerdì santo. La storica processione nel corso dei secoli ha sempre unito il capologo Peligno. L'aspicio di molti è che quest'anno non vada a dividere la città e la stessa arci confraternite.